Perché sei andato in galera? Eh, è lunga, è lunga, dai, cazzate sbagli che si fanno, insomma, non soffermiamoci troppo su queste cose, che sono messaggi, andare lì è da piccioni comunque, in ogni caso, la vedo così, l'ho sempre vista così, è da cretini, sia che ci, cioè, qualsiasi motivo per il quale tu possa finire, o aver guai di quel tipo lì, all'inizio era una cosa, oh minchia, sono un figo, ho capito, ah fai le storie, sei figo, ah sei di strada, sei figo, sei un coglione, cioè, è così.